io ringrazio per questo invito devo dire che è la prima volta alla fine che torno dopo tanti anni perché come qualcuno sa ho ancora molti maestri qui presenti allora faccio un po' un'introduzione diciamo che non si può nella vita scegliere di fare tutto ogni tanto bisogna ricordarcelo nel senso che non è scontato eppure in generale diciamo sono sono tutto sommato molto poche le persone che si chiedono ma cosa posso fare cosa è bene fare perché in realtà noi tutti siamo spesso frullati dal tutto che ci prende dentro no e che chiede la nostra attenzione io sono una donna di scuola 39 anni di scuola e non so se diciamo capite cosa voglio dire ma io vivo lo sgomento del documento a me ne arrivano una quantità pazzesca ogni documento che arriva a scuola sono almeno 150 pagine da leggere da mettere e da applicare tra un paio di giorni se non è scaduto già il giorno prima no lo sgomento del documento è una di quelle cose documenti sono parole no allora quando si leggono di seguito le circolari i documenti i programmi le linee guida ogni giorno nuove viene un po una apnea perché a volte non si riesce neanche di leggerle e dall'altro ci si chiede se chi scrive sa di che cosa sta parlando è perché qualche volta anche no poi però si prende il buono di quello che arriva si dice vabbè almeno un elenco delle cose che contano che il mondo ritiene è una specie di lista della spesa per essere un po volgari perché è un'espressione un po troppo quotidiana e diciamo vabbè questo è quello che il mondo in qualche modo ci chiede una specie di orizzonte un ideale che io dico impossibile no va bene dice questo a questo non lo posso fare ma proprio non lo posso fare perché non ci arriverò mai e quindi mi alleggerisco un po no bisogna dire siccome è inarrivabile un po mi rilasso mica dobbiamo fare tutto tant'ignazio no per quanto possibile io ce l'ho scritto nella mia scrivania sapete invece di avere il settimanale ho proprio scritto lì per quanto possibile non per ricordarmi che non si può per quanto possibile vuol dire tenuto conto di noi del mondo che ci sta avanti del contesto delle famiglie no allora questo per dire in apertura dell'incontro che posto che non siamo dio neanche noi che siamo qui nel posto deputato forse più vicino che ne so e che forse comunque vi assicuro che anche lui si troverebbe piuttosto in difficoltà a leggere tutto quello che arriva a scuola non credo che sarebbe sarebbe molto felice posto che non siamo dio allora beh voglio dire io parlo di scuola però non è che nella chiesa la produzione di documenti voglio dire assieme no copiosa giusto direi di no esatto perché non si sa cosa scegliere ne riescono talmente tanti no e allora posto che non siamo dio siamo liberi liberi vuol dire liberi di scegliere una attenzione particolare bisogna perché sennò non scegliere vuol dire essere trascinati no ecco io ho scelto le parole nella mia vita ho detto sia da insegnante sia da preside sia da come dire scrittrice ecco perché anche questo non è scontato però ho scelto che mi interessano le parole io metto lì la mia testa e anche la mia mio studio la mia intelligenza ho scelto che tra le mille mille cose che mi vengono proposte mi interessano le parole e di questo mi occupo soprattutto proprio allora tutto quello che riguarda le parole mi attira mi attira attira la mia attenzione anche le mie energie per quello che parlo di parole oggi allora qui è facile citare Don Milani nel senso che tutti noi ce l'abbiamo in mente poi Don Milani poi boh poveretto lo citano tutti però va bene citarlo ogni tanto non come ombrello insomma ma come una specie anche lui di orizzonte inarrivabile con l'idea che poi i maestri non li si deve mai copiare ma sono come una specie di luce che ci dice un po' cosa potremmo fare noi per muoverci senza inciampare e cascare allora Don Milani ha fatto una affermazione che noi conosciamo bene e dice finché ci sarà uno che conosce duemila parole e uno che non conosce duecento questi saranno oppresso dal primo le parole ci fa la parola ci fa uguali c'è una bellissima lettera che lui ha scritto al direttore di un giornale che io cito spesso all'epoca in cui lui parla del potere della parola ed è interessante questo sta parlando del potere della parola per la sua scuola per i suoi ragazzi dice io do soprattutto parole e poi parla anche della parola come parola di Dio ecco perché lui è un prete però tutte le due parole quando lui scrive sono tutte maiuscole sia le parole che lui dà ai ragazzi sia le parole parola di Dio cioè la parola è sempre maiuscola è sempre divina nella sua scrittura è interessante questa nota è un suo scritto autobiografico non è citato molto è citato nel diario della nipote insomma quello bellissimo che è uscito qualche anno fa ecco io faccio una professione di fede e cioè che credo nella parola in tutti i sensi però c'è da dire che noi siamo poi in un ambiente un po come dire in cui tutti crediamo nella parola insomma qui dentro in tutti i sensi nel senso che la parola di Dio la presenza ma noi è un ambiente in qualche modo amico rispetto alle parole invece io vorrei partire vorrei partire da un'altra parte vorrei partire da un laicissimo esempio dell'importanza della parola e del potere buono della parola cioè prima di arrivare a parlare dei nostri testi sacri e prendo un motivo molto laico per credere nella parola e lo prendo da un testo che cito anche questo spesso che lo amo molto molto pensate che ho un ragazzino in questi giorni a scuola che ha fatto che ha una sospensione per aver usato male le parole e sta studiando questo testo e lo deve riferire fare un powerpoint e poi deve riferirlo ai compagni e fare delle simulazioni proprio sulla base di questo testo per dire io lo ritengo una specie di piccola bibbia del valore laico della parola che è l'elogio della cortesia della giovanna axia qualcuno di voi lo conoscerà è un piccolissimo libro laicissimo edito dal mulino un mare di tempo fa la giovanna axia era una psicologa dell'età evolutiva una signora minuccia che l'ha conosciuta a padova qualcuno l'ha vista durante gli studi no la signora minutina cortesissima capelli in ordine sempre che era incarnava questa cosa qua cioè incarnava l'attenzione proprio per la parola è morta non c'è più ma il libro è stato ristampato è un piccolo libro strepitoso io vi parlo di due esempi che lei riporta proprio in apertura pura osservazione del potere buono delle parole che ce lo insegna poi i bambini allora racconta come le parole possano fare agire dice che le parole agiscono una pace preventiva è meravigliosa questa espressione la pace preventiva no come i bambini sanno fare la pace prima di fare la guerra cioè l'anticipano la pace proprio quando la guerra era già bella preparata e sarebbe potuta scattare sapete le guerre dei bambini io io qua la su e giù tutti essi poi si prendono per i capelli allora due dialoghi si tratta di registrazioni effettuate in una scuola materna in un asilo nido sono due scene di conflitto tra bambini conflitto nella prima c'è un bambino che si chiama iader che rivuole indietro il suo bastoncino che una bambina paola gli ha rubato mi serve dice mi serve a me bambini no anche a me mi serve a fare così ecco risponde paola e lo brandisce no allora iader tenta di darle un altro bastoncino ma paola non ci sta non ci sta no dice questo non mi serve mi serve il mio bastoncino e allora chi è che di noi non ha assistito delle scene così nei bambini che sia un bastone che siano i giocattoli insomma no per noi è una sciocchezza il bastoncino ma per loro è il tutto della loro identità da affermare quindi sto bastoncino non lo mollano neanche allora se io resisto esisto e allora sono forte in questa conversazione spontaneamente si intromette una terza bambina che si chiama robina e che gli dice iader per favore se tu le dai quel bastoncino io ti do questo bastoncino iader accetta lo scambio va bene dice niente guerra cos'è che è successo che robina è un terzo tra i due ha chiamato per nome iader quindi lo ha riconosciuto nella sua identità lo ha chiamato per nome poteva dire brutto bambino straniero iader è chiaramente un cognome straniero dagni il bastone invece no ha detto iader allora viene riconosciuto e poi ha chiesto per favore per favore se tu le dai il bastone io ti do questo e quindi cedere dare il bastone oppure non cedere è tornato nelle mani di iader e come ha fatto appello non c'entra più la forza io tu io tu ma c'entra la magnanimità che è un po la sorella un parente un pochino più sostenuta della generosità magnanimità un po più sostenuta cioè dipende da me la magnanimità perché ha ancora a che vedere con il potere perché ho il potere di dare o non dare però è un potere che si spoglia spontaneamente e perde la pericolosità di un potere sottratto se io rubo il potere sono debole ma se io me libero cioè spontaneamente cedo il bastone e non perdo nulla anzi è un gesto mio la magnanimità lascia intatto un potere buono no allora è successo successe un po di cose la mediazione di una bambina il chiamare per nome e il per favore il per favore quindi l'attenuazione allora c'è un secondo dialogo molto più drammatico appena dopo stesso scuola materna stesso asilo nido un altro bambino carlo offre qualcosa a umberto e gli dice guarda un serpente tieni e umberto non lo vuole tu te lo tieni e carlo dice tieni e umberto no e carlo io ti ammazzo e umberto anch'io ti ammazzo fine la guerra è finita e si azzuffano allora uno può dire sono bambini e non è vita vera non è così ma quello che la axia dice non è vero praticamente quello che fanno questi bambini è mettere in pratica quello che lei chiama la capacità umana forse più interessante quella di fare accadere le cose tramite le parole è bellissimo fare accadere le cose tramite le parole le parole sempre lei dice della cortesia sono sottili e potenti strumenti di pacificazione le parole della cortesia allora noi abbiamo tutti in mente no la polemica del bonton sul bonton borghese no la forma l'ossessione della forma è una cosa molto seria evidentemente quando la forma è un feticcio copre può essere proprio lo strumento dei sepolcri imbiancati la forma può essere lo strumento dei sepolcri imbiancati ma la cortesia non è la forma qui la cortesia è qualcosa di molto più diciamo preciso è vedere l'altro chiamarlo per nome chiamarlo per nome intervenire quindi la mediazione che è il contrario di quello che noi insegniamo ai nostri bambini fatti gli affari tuoi non metterti in mezzo quanti di noi lo dicono no ai bambini e nipotini si sa mai che l'altro ti dà un manrovescio e invece no fatti gli affari degli altri ma con la cortesia cioè vedi quello che capita ma trova le parole della cortesia nei due esempi due conflitti che avrebbero potuti potuto essere identici cambiano radicalmente direzione completamente in uno c'è la zuffa e nell'altro invece no non è mica poco è tutto con le parole perché non è intervenuto un adulto nessun adulto a dire a dare un manrovescio e dire via di qua e via di là no l'adulto avrebbe evidentemente operato una rottura della diciamo la dinamica spontanea tra bambini tra di loro chi dei bambini questa romina che aveva le parole della cortesia che non è forma ma che era sostanza perché ha detto iader ce l'ha detto iader c'è tu quindi ti ho visto sei tu tu ce l'hai sto bastone non è che e tu per favore daglielo no tu per favore daglielo so se qualcuno di voi è esperienza di questa incredibile incredibile serie di cartoni che era winnie de pooh non so se qualcuno ha avuto questa esperienza che era l'orsetto taoista l'orsetto taoista dove tutto questo era quasi didattico ci veniva proprio insegnato no insegnato che col per favore si ottiene di più che con la forza no non so se qualcuno ricorda quello bellissimo uno degli episodi era quello del miele dell'orso che voleva mangiare il miele andava a rubare il miele e tutti avevano paura il miele questo arrivava un miele mangiava tutto e a un certo punto arriva winnie winnie de pooh e arriva l'orsone c'è voglio il miele voglio il miele e winnie de pooh fa per favore per favore e lui fa per favore dividiamo fa winnie de pooh no simpaticissimo c'è sono questi cartoni che sono strepitosi perché fanno passare l'idea che la parola che la parola è potente è potente perché winnie de pooh non ha preso una spada e ammazzato l'orso cattivo no questo mostro che anzi era un mostraccio cattivo no allora le parole della cortesia possono essere insegnate e come se possono essere insegnate no un po scherzando dico sempre che servirebbero corsi di cortesia a tutti i livelli di scuola per esperienza comunque vi dico che quando l'ho proposto ai genitori della scuola dove insegnavo prima cioè che era i remondini di passano di bassano me l'hanno bocciato perché han detto vorrebbe dire che noi non sappiamo insegnare l'educazione ai ragazzi quindi non è neanche così facile insomma non è neanche così facile quindi non è così facile farli credo che vada diciamo funzioni molto di più la assimilazione cioè per imitazione ecco se siamo molto cortesi alla fine viene voglia di essere di imitare la cortesia ecco comunque questo tipo di parola questo tipo di parlare oggi è me è difficile da trovare oggi lo dico sempre la parola è malata è molto malata c'è un parlare del nostro mondo intorno che diciamo è pervasivamente aggressivo anche quando non lo è anche quando non lo è non lo so se avete un'esperienza io ho un'esperienza viaggiando moltissimo ho un'esperienza di queste cose di questi social dove si condividono i giudizi trip advisor dico come si chiama booking com quei posti dove si mette il giudizio dei degli alberghi o dei ristoranti o queste cose qua no e osservo molto volentieri perché è uno specchio interessante perché non è lo specchio dei ragazzi e social sono diciamo più difficili da valutare perché sono molto giovani più un po più sbraccati insomma bisogna farla tare all'età non è così semplice invece qui sono tutti belli adulti e quelli che vanno in alberghi e ristoranti sono belli adulti e io osservavo come finché il giudizio è positivo o abbastanza positivo insomma vabbè quando invece non è positivo ma anche educatamente non positivo cioè non diceva beh non funzionava l'acqua non so c'erano delle cose da migliorare meglio lavare i vetri non era un politico una volta lì spesso la risposta la danno la risposta gli albergatori direttori eccetera è formalmente cortese ma è aggressivissima nella sostanza cioè è come se anche quando usiamo le parole della folle della cortesia cominciano sempre con gentile cliente ma gentile dopodiché e lì si percepisce il livore anche nelle parole gentili io la chiamo una pervasività aggressiva del linguaggio anche quando usiamo le parole della cortesia sostanzialmente no e poi l'altra caratteristica del nostro linguaggio in questo momento è che ha un fondo molto sfiduciato se voi analizzate anche quello non aggressivo comunque sfiduciato cioè dietro c'è un'idea che il mondo va così cosa ci possiamo fare oppure il mondo va così e bisogna adattarsi alle sue regole no invece noi sappiamo è una cosa che in un contesto di questo tipo noi possiamo dirlo ma la giovanna axia che non era una donna di fede era una donna studiosa lo ha detto con parole molto più belle che le parole noi sappiamo che le parole cambiano il mondo invece perché veniamo da una parola che ha cambiato il mondo e poi ci è stata consegnata una parola che cambia il mondo e sappiamo che lo può fare che lo fa lo sappiamo nella fede lo sappiamo nella realtà perché è capitato e capita tra l'altro allora io apro una parentesi sull'importanza delle parole c'è da dire anche qualcosa che riguarda il nostro rapporto no con questo grande diciamo mostro contemporaneo che è dato che è il problema dello straniero dell'immigrazione eccetera eccetera no anche qua la parola ha un ruolo forse voi lo sapete ne avete già riflettuto ma una parola fondamentale ha un ruolo fondamentale che qua io racconto sempre un episodio piccolino che a cui ho assistito che mi ha aperto proprio gli occhi per sempre per sempre su questo su come su cosa sia importante alla fine no quale sia la cosa più importante quando abbiamo a che fare col pregiudizio e con l'accoglienza ed è questo episodio che ho raccontato tra l'altro anche in un libricino piccolino parecchi anni fa in cui in un piccolissimo paese tra l'altro vicino a casa mia ero in coda al supermercato e la cassiera che è molto giovane con due bambini piccolini quindi insomma anche una ragazza non un signore diciamo carico di pregiudizi legati all'età e alle paure vede arriva un signore extracomunitario che è arrivato in bicicletta e si mette in fila senza prendere prodotti mentre noi avevamo tutte le nostre borse così e quando arriva sul turno chiede correttamente una ricarica da 10 euro una ricarica da 10 euro correttamente cioè proprio in italiano si vede che aveva imparato la formula la giovane lo investe gliene dice di tutti in colori noi ad assistere e io vigliacchissima tacere devo dire che non ho fatto una grande figura e dice ma da dove vieni tu non si domanda mica per favore dalle tue parti come bestie arrivate qui e lui non risponde ma io credo che non capisca e spero che non capisca la parola bestie insomma e lei sempre imprecando gli dà la ricarica lui paga lui esce prende la bicicletta e lei continua a inveire con noi in coda per altri proprio urlando con le stesse caratteristiche allora beh al netto del pregiudizio anche della madre educazione della signora che poi devo dire la verità era anche una mia studentessa ex questa per cui anche lì per quello c'è stato questo imbarazzo a reagire insomma per cui mi domando alla scuola cosa stiamo facendo comunque vabbè da lì ho ricavato una cosa proprio fortissima che ho imparato che la prima cosa da fare con gli stranieri e dargli la lingua della cortesia perché è un disinnesco se dice per favore posso avere una ricarica da 10 euro nel suo piccolo ha messo in moto un meccanismo per cui questa non può trattarlo così non lo può fare e quindi la prima cosa prima ancora di dire il pane l'ufficio postale ho sempre detto poi no ai miei insegnanti che facevano l'italiano prestanieri insegnate le formule di cortesia perché l'avrebbe subito disinnescato questa rabbia magari sarebbe espressa lo stesso contro gli stranieri in generale se uno ce l'ha ce l'ha però voglio dire le parole della cortesia sono parole che assolutamente includono tutte quelle cose che noi non riteniamo così importanti perché in fondo gli insegniamo le cose essenziali dove è l'ufficio postale no per favore dove è l'ufficio postale grazie di avermelo detto cioè è più importante questo che non nella sostanza io sono assolutamente convinta i ragazzi nostri che vengono a scuola la stessa cosa facciamo tutte le formule di cortesia gliele insegniamo tutte perché devono disinnescare l'aggressività tocca a loro noi siamo una società aggressiva e tocca a loro diamogli modo di non dare il destro per questa aggressività diamoglielo a questo modo ecco poi questa poi ci sarebbe da dire qualcos'altro sulle loro parole quando noi dovessimo riuscire a metterci in contatto con le loro parole lo dico perché ho l'esperienza di bambini che arrivano con stranieri nelle scuole scopriremo delle cose pazzesche non so se avete in mente ad esempio questo dizionario che Taylor Deschardins ha scritto sulle parole dove ad esempio riportava i cento modi di dire la parola acqua acqua per una popolo del deserto allora l'acqua per noi è acqua invece per loro c'è un modo per dire acqua che stilla acqua ferma acqua che scorre perché se do un'informazione a un popolo del deserto questo deve sapere se può portarci il cammello se può andare a bere lui se deve stare fermo per permettere la raccolta dell'acqua che stilla cioè allora provate a fare la stessa cosa con alcuni stranieri e chiedere la parola casa la parola mare la parola mare ad esempio allora bambini disegniamo il mare oh mamma cioè una volta è successa una tragedia bambini disegniamo il mare seconda elementare bambina appena arrivata dal barcone per quello il mare ha pianto tre giorni il mare non lo voleva vedere la parola casa guai insomma no perché la parola casa per noi è una cosa così invece per loro la parola casa è l'abbandono l'averla il dolore l'averlo lasciato e poi i mille modi anche per loro di dire la parola a casa noi abbiamo casa, magione, dimora eccetera loro hanno casa abbattuta casa bombardata cioè dovreste vedere fatevi raccontare noi abbiamo i quadernini dei racconti delle parole anche lì il fatto della reciprocità dimmi le tue parole dimmi le tue parole ma non paternalisticamente sapete ma perché è un mondo che passa dimmi le parole tue per noi mare è vacanza per loro è un incubo la casa è rifugio per loro è il pericolo può venire la bomba che te la distrugge domani disegna la tua famiglia stare attenti a fare queste cose con questi bambini anche con i nostri ormai perché non cioè vi assicuro che chi è da disegnare la famiglia diventano di quelle cose che potete averla avvocato il giorno dopo a scuola nel senso che violazione della privacy sono cose che non si possono raccontare eccetera eccetera ecco vabbè poi però per voi che siete qui in un contesto anche bello insomma di teologia di fede per chi si occupa di teologia si occupa di parola necessariamente perché è nella parola che avviene per chi crede la consegna di Dio all'uomo e io dico sempre che la parola la nostra parola che ci è stata affidata è la modalità più discreta possibile di proporsi per un Dio io trovo ad esempio che l'epifania sia molto violenta l'epifania è violenta perché è divisiva chi ha visto? ha visto e racconta ho visto gli altri dicono boh hai visto? davanti all'epifania lo scetticismo no? davanti all'epifania mi posso spaventare dico mamma mia sto diventando matto oppure posso credere l'epifania è molto molto divisiva ecco perché c'è una prudenza no? assoluta della chiesa sull'epifania che io trovo una saggezza straordinaria questa prudenza c'è chi si arrabbia perché c'è troppa prudenza no? c'è chi si arrabbia perché dovrebbe essere ancora più chiuso invece no perché? però l'epifania sarebbe provate a pensare a una fede legata a una marea di epifania che si susseguono è molto divisiva è molto anche violenta l'epifania invece la parola no è una modalità splendida cioè la parola c'è è la parola scritta la sacra scrittura si può prendere e leggere si può non prendere e non leggere si prende la si legge la si fa propria la si prende la si legge e non la si fa propria è di un rispetto tale della libertà dell'uomo e della donna che la legge che la prende che è straordinario la presenza nella parola non solo ma è come dire io dico sempre no scrivo un libro se nessuno lo legge serve al massimo da zavorra sotto un tavolo per mettermi in pari un tavolo che traballa oppure per fare l'erbario mi piace fare l'erbario con i fiori no ma e non serve niente quindi se invece viene letto la parola il libro prende vita cioè non è nulla prima di essere letto anche la parola non è nulla la parola di Dio non è nulla prima di essere letta ma proprio nulla e quindi pretende in qualche modo l'uomo lo interpella no non è non è un assoluto la Bibbia non è è un oggetto da niente l'oggetto se non è mio che lo leggo e ci trovo qualcosa quindi è potentissimo perché non si impone ma nello stesso tempo chiede l'uomo che è la storia della salvezza no la storia della salvezza è questa una consegna che chiede però poi l'uomo perché da soli da sola questa parola non 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 c'è insomma non ha ecco il quindi da un punto di vista diciamo interno nostro è chiaro che la parola è la nostra dimensione cioè è dove eppure eppure io dico no vi ricordate c'è questo no vi ricordate questo testo c'è un testo bellissimo di Vittorini che è l'apertura della della rivista il primo numero del nuovo Politecnico dopo la guerra no testo famosissimo in cui lui si chiede com'è possibile che in un contesto in cui la filosofia la teologia la storia del cristianesimo ha detto già tutto sulla dignità dell'uomo sui diritti sull'uguaglianza perché tutto era stato detto l'illuminismo c'era stato lui proprio cita c'è stato Gesù Cristo c'è stato cita anche filosofi orientali eccetera si è potuto ci si è potuto verificare la barbarie della seconda guerra mondiale ma soprattutto del genocidio e soprattutto dell'oppressione com'è possibile cioè cosa non ha funzionato cosa non ha funzionato perché questo non ha trasformato il il mondo occidentale abbiamo potuto dimenticare tutto e schiacciare tutto la domanda potrebbe essere rispostata anche adesso perché in un contesto in cui tutto il mondo cristiano di cui l'occidente è pervaso afferma e conosce e riconosce il valore della parola il valore fondante della parola com'è potuto accadere che oggi la parola viva questa devastazione che noi vediamo cos'è che non sta funzionando cosa c'è che non sta funzionando perché oggi la parola è bistrattata in un modo tremendo le parole il mondo delle parole è schiacciato è stato schiacciato è un dramma di cui si stanno occupando anche le neuroscienze ho letto un articolo sull'ultimo Sole 24 Ore forse l'avete visto anche voi di domenica sapete che c'è il domenicale proprio su questo tema è schiacciato in una diciamo dimensione duale le parole sono state in qualche modo uno spartiacque o stai di qua o stai di là il bello brutto il buono cattivo è esaltato anche da queste strutture dei social che prevedono questo mi piace non mi piace non c'è nessuna sfumatura tra il mi piace e non mi piace il silenzio non mi piace ed è una condanna totale invece il mi piace dice molto di più magari di quello che io vorrei dire però non ho un'alternativa non ce l'ho dentro questa alternativa e con una mistificazione anche notevole perché i social mettono in contatto però i contatti si chiamano amici allora se io chiamo un contatto amico come lo chiamo l'amico poi perché i contatti sono contatti da questo punto di vista non so se qualcuno di voi conosce un po' di social Linkedin è più onesto che è quello per fare per trovare lavoro no perché li chiama contatti e però invece gli altri tutti quelli moderni molto molto giovani che sono Instagram Facebook eccetera tutti hanno invece la parola amico ma sono contatti non sono amici assolutamente quando ho chiamato un contatto amico non ho più una parola giusta per chiamare gli amici quindi questo gioco questa mistificazione delle parole mi inchioda un po' a usare quelle che il mondo mi offre non mi offrono cioè nel senso che se voglio entrare in questi mondi un po' strutturati devo accettare queste regole devo accettare queste regole no? perché se no non posso entrare in questi mondi ma non posso neanche ignorarle perché questo è il mondo oggi e io posso dire ma io sono superiore e non lo voglio sapere provate ad essere superiori e avere una scuola di 1350 ragazze cioè perdete metà delle cose che succedono insomma nel senso che dovete entrare nella vita di quello che capita quindi anche questo è un poi volevo sempre questa prima parte poi c'è una parte un pochino più interna a noi della chiesa ecco un'altro diciamo osservazione che si deve fare è questa che questo linguaggio diciamo impoverito è anche drammaticamente come dire tranchant sul tranchant non ci stiamo dentro perché buoni o cattivi tutto il resto dove lo mettiamo cioè proprio cattivi 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 sono pochi buoni 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 sono pochi dove ci mettiamo insomma noi non si riesce neanche di parlare no? c'è stato un articolo molto bello che ha pubblicato nel 2016 Bernard Henry Lévy probabilmente qualcuno legge Corriere della Sera a proposito del linguaggio di Trump e l'ha intitolato l'internazionale della volgarità pensate che era il 2016 siamo nel 2019 allora lui scrive si pensa oggi che esista una internazionale della volgarità e dei lustrini dove la scena politica sembra ridursi a un grande set televisivo l'arte del dibattito diventa mediocrità e i sogni degli uomini sono illusioni ampollose e pieni di lustrini scintillanti l'economia è solo una specie di contorsione di tanti zii paperone cioè ricchissimi grottescamente fisici cioè la fisicità di Trump non la fisicità di questi politici verbalmente deficienti lo scrive a lui scusatemi e carichi di odio nei confronti di tutto il mondo che pensa grottescamente deficienti vi viene in mente qualcuno? era il 2016 e il gusto di riuscire a fare bene un'impresa si riduce a piccoli imbrogli che vanno a buon fine pazzesco poi dice ho proprio detto una internazionale una globalizzazione del volgare è il volto estremo di una umanità di cartoni animati che sceglie il basso l'organico il prelinguistico per assicurarsi un triunfo universale una universalità da quattro soldi dove si getta nel dimenticatorio di una storia ormai sorpassata attenti questo è bellissimo la fragilità degli esiliati e dei viaggiatori della storia che dai due lati dell'Atlantico hanno sempre contribuito alla vera aristocrazia del pensiero umano quella che è stata data all'America ad esempio dal grande popolo dei latinoamericani i latinos degli ebrei dell'est Europa degli emigrati italiani dei cinesi degli inglesi che ancora sognano le canoe di Oxford sugli specchi d'acqua di Boston bellissimo no? cioè lui nel 2016 ha denunciato questa internazionale della volgarità non erano ancora arrivati i sovranisti europei degli ultimi anni è un linguaggio questo che fa della prevaricazione la cifra normale del vivere no? allora il fatto che oggi ma è molta politica anche nostra si esprima soprattutto sui social cioè saper le cose da un tweet 144 carattesi li hanno moltiplicati 288 cioè non è un'argomentazione capite? si esprima soprattutto sui social noi dai social abbiamo saputo tutto abbiamo saputo la diciotti la vicenda della diciotti abbiamo seguita tutta sui social twitter perché il nostro ministro usa solo twitter prevalentemente twitter possibile che un'informazione importante come una storia di uomini e di donne debba passare per questa modalità vuol dire non denunciare tutto all'argomentazione tutto tutto dice secondo me dice proprio il degrado della parola perché il social impone di essere brevissimi poi sapete i social si scrolla si dice così no? cioè si passa e il gesto stesso di scrollare è un gesto veloce e cos'è che capisco di questo scrollare non l'argomento ma il titolo cioè se mi colpisce qualcosa al massimo è il titolo non so neanche la notizia ci sono delle studi che dimostrano che la notizia non viene mai letta a parte che sarebbe brevissima perché in un social deve essere piccola no? quindi è una proprio una strategia di diciamo di non pensiero ecco no? di un rinuncia al pensiero la parola è pensiero e qui la corsa è la parola che colpisce di più e insieme poi all'anonimato qui vi racconto una cosa quando qualche giorno fa la settimana scorsa si è avuta la notizia che la ministra l'ex ministra Chiang vi ricordate era stata pesantemente offesa da un deputato insomma e aveva presentato denuncia quando si è saputo che ha vinto che ha vinto l'ha vinta la causa ed è stata risarcita per una cifra piccolissima che lei ha devoluto subito per progetti delle donne comunque va bene allora è stato condannato il deputato che aveva fatto il post contro di lei che mandò l'orango e vabbè aveva un nome e un cognome quindi dopo dei quasi 500 risposte che aveva avuto che aveva detto hai ragione è proprio un orangus aspetta se si risponde esatto hanno condannato 12 persone voi dite ma perché 12 perché gli altri non c'erano non esistevano c'è la polizia postale ha fatto le indagini su tutti ma erano finti profili finti che servivano solo a rilanciare quindi è chiaro che c'erano 12 persone vere un po' gli allocchi che hanno messo la faccia insomma e questi li hanno condannati ma gli altri erano tutti finti c'erano questi profili che servono a rilanciare le notizie dire ecco a tanto seguito a tanto seguito no micidiale quindi è un meccanismo di volgarità accettata di brevità che toglie il pensiero e nello stesso tempo che permette una dinamica di nascondimento non vado da uno a dire sei un deficiente o hai una faccia da scimmia posso anche farlo non è mica bello però sono io che lo faccio no è proprio tutto un gioco di scatolette e di rimandi no va bene se è una parte un pochino più interna ci ho pensato molto e se proporre questa allora io direi la propongo e poi lo secondo me si potrebbe allargare perché io ho fatto un esempio sull'uso del linguaggio proprio su un problema interno a noi a noi della chiesa però voglio dire voi potete trovarne altri magari lo scambio può essere anche bello e interessante ci ho pensato un po' che potrebbe sembrare un po' una provocazione ma non lo è neanche per sbaglio insomma è solo un tema che mi sta molto a cuore allora quali sono le parole giuste uno dice le parole giuste perché bisogna avere sempre questa cura lo dicevo no delle parole e davvero avere proprio in mente che la parola cambia il mondo cambia il mondo sia laicamente inteso che è inteso invece in senso stretto per la vita di fede per la vita della chiesa allora è la storia del momento a dire qual è la parola giusta cioè non c'è la parola giusta in assoluto evidentemente no dipende dipende dal momento dal momento storico ad esempio qualche giorno fa in un'intervista mi hanno detto ma lei cosa pensa di questo regionalismo differenziato per la scuola avete visto che c'è questa proposta Lombardia Veneto Emilia Romagna e ho detto guardate ovviamente dipende dal momento in questo momento è una pessima idea perché in questo momento è una pessima idea perché in questo momento in cui c'è una forza centrifuga molto potente c'è una specie di egoismo istituzionale piuttosto potente in cui l'egoismo anche individuale viene esaltato una scelta di questo tipo è dissennata secondo me proprio dissennata e poi perché diciamo tre regioni perché non tutte e invece perché un federalismo serio riguarda tutte le regioni quindi devo fare un progetto che riguarda tutte le regioni no facciamolo pure ma è diverso che si stacchino e che si dia tutto un privilegio a una serie di regioni che sono le tre vedi bene quelle più un po' messe meglio è un brutto segno quindi adesso è proprio sbagliato invece in altri momenti evidentemente potrebbe essere una buona idea cioè in un momento di statalismo esasperante eccetera eccetera è ovvio che l'idea di ricordare che siamo diversi che ogni regione ha delle sue particolarità eccetera è una cosa buona quindi potrebbe essere fatto bene dipende dal momento allora qualche volta è la riflessione collettiva cioè è il fatto proprio che un problema nasce che ci attira l'attenzione sulle parole allora quello che voglio portare qui è una piccolissima riflessione legata alla nostra attualità di chiesa ed è l'espressione abuso sessuale sui minori ne parlano tutti è una cosa che abbiamo nell'orecchio no e la prendiamo per buona cioè ci sono delle espressioni che noi non mettiamo in discussione questa è diffusa sia in ambito diciamo dei giornali religiosi anche molto come dire seri anche molto riflessivi sia in ambito laico è un grande tema della chiesa e allora le cose stanno così l'espressione abuso sessuale è usato quasi esclusivamente in riferimento ai minori ai bambini e alle bambine quasi esclusivamente quando si parla di ragazze o ragazzi si parla di violenza o di aggressione sono due cose diverse violenza o aggressione allora nel gennaio 2014 la conferenza episcopale italiana ha condiviso un documento no vi ricordate nato dalla riflessione durata tre anni e promossa dalla congregazione per la dottrina della fede del titolo era linea e guida per i casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte dei chierici ecco quindi abuso sessuale nei confronti dei minori abuso sessuale nei confronti dei minori ora a parte una considerazione che mi ricordo di aver fatto per quel documento e per molti altri che sono usciti a ruota anche di diciamo di alcune conferenze episcopali non quella tedesca ma altri nostri interni osservavo che in tutto il documento non compariva mai la parola bambini compariva solo la parola vittime e mica la stessa cosa perché vittima nel nostro evidentemente immagino l'associazione vittima non è con il bambino poco da fare vittima è con un'aggressione come un adulto un morto vittima della si dice vittima della strada vittima della violenza ma non ti viene in mente un bambino non c'era mai la parola bambino mai mai questo termine è però diciamo universalmente accettato anche nel linguaggio laico la Repubblica del 7 marzo un altro giorno dice Barbaren questo sapete non vescovo arcivesco di Lione condannato a sei mesi per avere coperto abusi sessuali dentro il testo ci sono dieci volte ripetuta la parola abusi sessuali su minori voi sapete che nel suo caso non è stato lui però non ha adeguatamente denunciato ma ad esempio il post del 28 febbraio ugualmente conseguenze enormi dallo scandalo degli abusi sessuali per il ruolo e la vita della chiesa sempre abusi sessuali quindi abbiamo le due varianti linguistiche abusi sessuali e abusi sessuali su minori le due varianti linguistiche allora il termine abuso sessuale è un termine sbagliato ma proprio sbagliato perché ha un sottotesto importante allora il dizionario definisce così la parola abuso un uso eccessivo illecito e arbitrario uso eccessivo illecito e arbitrario le parole non sono mai isolate dalla loro storia e dal contesto no? allora prima di questi anni che hanno portato ad associare proprio per questo utilizzo il termine abuso al termine sessuale il termine abuso c'era lo stesso esisteva il termine abuso non è che non c'era e l'uso più frequente era legato non al sesso ma a tutte altre cose ad esempio abuso di potere abuso di potere da parte delle forze dell'ordine ad esempio abuso di mezzi di correzione a parte dei docenti delle maestre no? e picchiavano no? tutte le espressioni aiutano a capire che cosa si intende col termine abuso perché il termine abuso sottintende è che esiste un uso legittimo che l'uso è legittimo ma quello che è illegittimo è l'abuso cioè l'uso va bene uso il potere uso un mezzo di punizione ma se abuso non va più bene quindi è l'eccesso dell'uso a farne una realtà illecita è l'eccesso dell'uso a farne una realtà illecita il termine abuso suggerisce l'idea che c'è una specie di misura legittima dell'uso se questo va bene con l'uso del potere c'è una misura legittima ovviamente dell'uso del potere o anche dell'uso dei termini di correzione è ben difficile pensare che invece ci sia un uso legittimo della sessualità su un minore da parte di un adulto giusto? non c'è e basta senza pensare che il termine uso se io abuso se io ho dietro il termine uso e l'uso è buono e legittimo perché c'è un uso buono e legittimo ho tutto il problema del confine cioè si può discutere infatti si va in giudizio l'abuso di come si chiama di mezzi di correzione non è lampante devo andare dal giudice che dice ma cosa volevo fare cosa di fatto ha fatto è tutto una questione di equilibrio a scoprire se è proprio stato un abuso oppure no e qualche volta le sentenze scandalizzano perché dice ma come mi sembrava invece il giudice dice di no quindi nella nostra percezione l'espressione abuso sessuale su minore ha una connotazione molto attenuante rispetto alla violenza sessuale oppure all'aggressione sessuale è molto meno perché nella nostra testa è solo un abuso è solo un abuso ma non è una violenza è molto più potente la violenza no? è molto più potente la violenza è sempre negativa è sempre una l'uso della violenza è sempre illegittima invece l'abuso è illegittimo se lo riconosco come abuso però potrebbe essere un confine lì lì con l'uso e quindi magari è legittimo e quindi nella nostra testa diventa una attenuazione del fatto eppure non c'è mai nei documenti ufficiali e nemmeno nella vulgata cioè nel nostro modo normale di parlare o di leggere i giornali anche laici non si usa mai o quasi mai aggressione su minore o violenza su minore si parla di abuso che induce induce a considerarlo tutto sommato qualcosa di meno grave di quello che è il fatto sostanziale è che non c'è mai un uso legittimo della sessualità su un bambino e quindi abuso non va bene perché non è una misura che viene a mancare non è la misura che viene a mancare o su una bambina quindi non ce ne può essere neanche un abuso c'è solo violenza o aggressione violenza o aggressione come per un adulto mentre paradossalmente è evidente che ci può essere paradossalmente potremmo dire abuso verso la moglie o il compagno perché? perché c'è un uso legittimo lì della sessualità tra adulti e la pari giusto? però non lo si dice lì si parla proprio di violenza allora forse neanche sugli adulti però allora io dico paradossalmente si potrebbe dire lì ma forse anche no perché? perché la sessualità evidentemente ha una componente di libertà irrinunciabile quindi non può anche lì insomma non c'è un uso come utilizzo della sessualità legittima insomma per cui perché si usa questo termine invece? perché è invalso l'uso di questo termine allora sicuramente riprende il modello dell'espressione inglese perché lo scandalo della pedofilia nell'ambito ecclesiastico è venuto dal mondo anglosassone non è venuto dal mondo latino è venuto dal mondo anglosassone e il termine inglese è sexual abuse per cui si è tradotto in italiano però c'è anche un'altra cosa attenti secondo me c'è tutta un'altra cosa questa è una riflessione che ho trovato proprio molto recentemente da parte di un giudice della corte dei minori di Parigi che è stato pubblicato qualche settimana fa l'ho trovato in rete è in francese ma l'ho trovato in rete c'è il fatto che molto spesso le violenze sui minori avvengono da parte di persone conosciute spesso sono amici di famiglia oppure all'interno quando si tratta ad esempio del mondo della chiesa di una relazione di autorità oppure di confidenza allora questa espressione è bella ed è di Jerome Roussel che è quello che ha scritto questo articolo che è un avvocato del foro di Parigi allora poiché la violenza sui piccoli viene spesso in un contesto in cui l'adulto ha un ruolo autoritativo verso il bambino per la posizione o è l'insegnante o è il preto o è l'amico di famiglia cioè o è il coach dello sportivo eccetera ha una posizione autoritativa verso il bambino oppure la bambina allora l'equivoco di chiamare abuso sottintende l'idea di autorità è un abuso dell'autorità che l'adulto ha sul minore in facoltà della sua posizione che sia un prete o che sia diciamo uno sportivo che allena una squadra ma rimane che è sbagliato rimane che è sbagliato perché l'espressione attenuata abusi sessuali su minore non rende per niente l'immagine della violenza dell'atto subito neanche un po' manca tutto manca l'aggressione manca la violenza no porta solo a pensare che c'è stato una specie di sconfinamento nell'autorità ma non è quello ma non è neanche vagamente quello né in chi ascolta rende giustizia né in chi deve giudicare il crimine attenti perché poi questi crimini vanno a giudizio ma se si continua a chiamarli abusi sessuali su minori anche la percezione dei giudicanti è influenzata dall'uso attenuato di un termine non so se è chiaro no è molto attenuata ma non rende ragione neanche a chi lo ha subito e lo deve raccontare perché parte già da una precomprensione sociale che in fondo è un sconfinamento insomma e in fondo tutto sommato se lui il confine lo metteva un po' più in là si sarebbe potuto evitare e invece non è così perché invece è proprio una violenza in quanto il minore non ha non ha diciamo non c'è un uso normale della violenza del sesso sul minore evidentemente allora conclude questo bellissimo articolo di si chiama Jerome Roussel no e dice l'abuso sessuale sul minore non esiste dice proprio Tranchant non esiste non esiste mai perché la brutalità dei fatti e le loro conseguenze sono diciamo molto diversi volerli mascherare dietro dei termini addolciti significa volerli negare la prima giustizia dice è rendere alle vittime è rendere alle vittime in francese è rendere giustizia alle vittime attraverso l'uso corretto l'uso delle parole giuste ecco le chiama così attraverso l'uso delle parole giuste e qui siamo molto lontani sapete perché che io sappia l'unico articolo che ho letto su questo punto importante ancora qualche tempo fa forse addirittura un anno fa in riviste nostre insomma che di solito si frequentano è sul regno un articolo della Maria Elisabetta Gandolfi dove diceva forse si dovrebbe cambiare l'espressione no abusi sessuali sul minore dovrebbe poter anche renderci conto maggiormente della gravità di quelli dei fatti che vengono che vengono narrati ecco un po' l'importanza delle parole questa importanza delle parole allora io dico questo scandalo è grande però ci permette di riflettere dobbiamo prendere atto di un errore anche comunicativo importante e se siamo onesti almeno qui da oggi in poi usare un'altra espressione almeno chi può allora chi è che può qui siamo in tanti a potere no io sono una donna di scuola scrivo sui giornali voi siete predicatori molti di voi no usare le parole giuste rendere giustizia anche attraverso le parole molti sono insegnanti no quindi la passione per le parole qui c'è un nodo ma è un nodo importante volevo chiudere su una cosa perché e devo ancora pensarla questo quindi la lascio a voi come pensiero sta uscendo lo scandalo delle suore allora come si chiamano come stanno chiamando lo scandalo delle suore soprattutto non solo ma soprattutto nei paesi insomma purtroppo del mondo povero no abusi sessuali sulle religiose titoloni così abusi sessuali sulle religiose occhio cosa nasconde perché dice un'analogia il linguaggio non è mai neutro sapete perché abusi sessuali sulle religiose li consideriamo minori perché per analogia allora anche loro oppure lo consideriamo un reato minore quindi attenti anche lì perché se diciamo la violenza viene su una donna non religiosa si chiama violenza o aggressione e se viene su una religiosa si chiama abuso sessuale siccome questo scandalo è appena nato possiamo un po' lavorare sulle parole almeno di questo no non è ancora codificato non è ancora codificato anche se lì secondo me ci potrebbe essere qualcosa di ancora legato a ciò che si diceva poiché molti di questi abusi hanno a che vedere con la posizione di potere degli uomini diciamo coinvolti che sono vescovi sacerdoti quelli che sono stanno venendo fuori adesso vedrete che nei prossimi anni sarà durissimo questo diciamo questo punto non si riuscirà di insabbiarlo e non sarebbe una cosa buona per niente a meno che non si voglia con questo termine diciamo sottolineare che lì è proprio avvenuto anche un abuso di potere posto che diciamo nella chiesa possiamo raccontarcela finché vogliamo ma è ancora una posizione di potere quella diciamo tra il vescovo e le suore eccetera eccetera specialmente di queste congregazioni diciamo dei paesi poveri dove noi sappiamo per quale ragione spesso vanno eccetera eccetera però anche se è vero che il contesto diciamo potrebbe giustificare il fatto che lì c'è davvero un tracimare un tracimare rispetto all'uso del potere rimane che le parole devono rendere la realtà dei fatti e la realtà dei fatti è che quelle sono violenze tanto quanto le nostre donne non suore violentate e quindi usiamole bene anche queste grazie grazie grazie